Benvenuti alla nostra festa di Laura 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 Proviamo a fare una convoluzione tra una serie convergente Linux, passando per un processo e per un seguito maggiore dopo, e grazie al teorema di Tiger Woods, e grazie al teorema di Tiger Woods, e non ha parlato? E' un bel uomo! 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 E' un bel uomo!, Ricordando I Love Seven Che I Love Seven? B badly! Già b l 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 D ricordando che il post che vuole di anche p ad esempio że la mia amica domenica che non esce mai l'altra settimana mi ha detto che la strega è calda riparti 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 scaledloGG non vale studiare prima la materia l'ambra l'ambra porto l'ambra ripetiamo ripetiamo l'ambra è talmente calda che sto sudando come un maiale e il mio di meretano comincia a produrre strani profumi ci pareva giusto promulgare anche qualche aria da est ergo, 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 sum, and, sir, mind, mind AAAAAAAAAAA la mamma è giusto che vuoto qua perfetta ma non è vero perfetta perfetta adesso me la legisette come diceva giusto beh l'ha fatta fuoco è perfetta insieme non è vero insieme dai non è vero Due insieme! Non hanno beccato eh? Se ti farei a giusto, provocare anche che a lei ha iagta est Ergo colte, ergo sume, e vi risulti Mit dismi schede, stag freia, un mondo Vi volem tenne in banca Ah è bene, non bemmo! Bene, 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 bene 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 Bene, bene Bene, bene Non ha letto bene secondo me eh? E non ha letto bene secondo me eh? E non ha letto per niente Non è stato così non è stato così Vieni a uscire dei soldi per voi eh? Aggiunziamo che per le strade Le vali da sé solo se un esiste in delta maggiore di zero Sare che uno meno ne renderà Drogo lo sta riedendo Ehm Amanda 3 miliardi 540M che ti stanno tirando avanti l'ultimo goccio di bo